Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, sono giurassico, sono dieci e oggi signori siamo qua nuovamente su Rimworld dove ci siamo lasciati nello scorso episodio dove siamo praticamente pronti alla costruzione, all'attivazione dell'astronave ora stavo solo, stavo dando un'occhiata a cosa succedeva a Kena, mi fa piacere che Mal ha preso a pugno Kena e Kena con la superarmatura potentissima non è riuscita a sistemare la situazione ok, si, allora Kena se non sei più incapable of walking, ok equipaggia questo per favore e poi restante il yield e anche Mal restante il yield ok, a qualcuno va di pulire il pavimento perché è uno schifo, allora storm pulisce ok, però in realtà gli altri, beh tu, uno o due potresti fare così ok, perché sta diventando tutta schifosa la base, non so come mai cioè va bene, perché nessuno pulisce più questo, ok cioè sono occupati secondo me a spazzare via la neve questo è il problema allora, qui intanto stiamo continuando a buildare i nostri fantastici motori eh, uranio ce l'abbiamo? domanda, perché sapete che secondo me, no uranium, no, uranium si, ne abbiamo una tonnellata non stavo guardando perché non erano pieni abbiamo in teoria tutto quindi situazione ottima direi insomma praticamente situazione ottima allora, facciamo anche una cosa, visto che qua c'è della terra non so se vedete cioè la vedete sicuramente che mi dà leggermente fastidio facciamo così e poi rebuildiamo questi muri eh, giusto per ok, uh, sono velocissimo ok, che almeno abbiamo roof collapse ah, vabbè, sì non ci interessa oh, no ok ops ehm, ok questo non era previsto in effetti questo non era previsto però occasione per eh, rimpiazzare il pavimento giusto? sì, esatto almeno facciamo il pavimento giusto e ora, vabbè questa cosa non era prevista ma, vabbè, fa nulla ok, qua facciamo così così almeno qui abbiamo tutto eh, sì ripeto, non era prevista ci servono altri componenti quindi ovviamente visto che è successo il disastro ci servono altri componenti dove sono i componenti? che non mi ricordo mai qua ok, ci ne abbiamo ok, abbiamo 50 componenti normali advanced component ne abbiamo pochi però in realtà li stiamo semi-buildando diciamo quindi ok eh, ok eh, ok semi stai already guardate guardate che lo so che si sposta adesso ok, abbiamo perso il reattore perché, ecco vedete, lo sapevo priorities tanto hai quasi fatto hai poco da fare lion che cos'ha? ok, vabbè tattere da appare rain ah, sì la marine armor eh c'è uno schifo in giro che non mi piace abbiamo abbiamo qualcuno che non sta facendo niente per caso domanda eh perché eeeh qua abbiamo qualcuno che ha poco da fare eeeh oh, ha tipo smarty secondo me può fare questo smarty e john per me possono fare mmm no john però fa vabbè facciamo così facciamo così se almeno un po' puliscono perché ecco un po' puliscono perché la zona sta diventando brutta in realtà ok abbiamo un secondo eeeh un secondo ah ship reactor lo ripiazziamo qua qui rimettiamo questi rimettiamo per sicurezza ok eeeh niente questo dobbiamo ricostruirlo perché ho fatto un microscopico errore macroscopico errore eeeh ok eeeh questo chi lo sta facendo green eeeh io li farei un attimino lavorare tutti qui aeeh eeeh e l'altro chi era? non mi ricordo orange no reindeer reindeer si ah reindeer è già qua però mosquito no mega scarab no chi è che è che buildava green vabbè intanto voi qua buildate ok abbiamo due componenti avanzati cosa abbastanza buona ok questo muro qua dobbiamo finirlo al più presto possibile in realtà eeeh io qua farei anche così vi dico la verità io farei una cosa del genere farei ah eeeh si qua io farei una cosa del genere giusto per avere un attimino il muro un po' più potenziato diciamo più resistente visto visto che abbiamo capito che ci attaccheranno spesso diciamo uh non abbiamo più plastil ok situazione abbastanza grave quindi non abbiamo più il plastil in giro ma non ce l'abbiamo neanche in giro però mi sa di no eh plastil tra l'altro mi sembrava averlo già guardato sta cosa no plastil secondo me non ne abbiamo abbiamo uranium steel steel gold steel 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 eeeh vabbè possiamo anche comprarlo volendo tanto in realtà di visitors cioè di produzione ne abbiamo un po' in realtà allora tra l'altro qua internamente abbiamo abbiamo dello steel volendo cioè nelle camere da letto in realtà quindi non bellissimo ok questo qua bridoa perchè c'hai l'orologino idol ok vieni qua sei colonista idol se abbiamo un botto di gente idol in realtà idol ah beh perchè non hanno più niente neanche da pulire ok va bene idol perchè effettivamente sono idol ok qua tra l'altro stiamo iniziando a a buildare tutto in maniera fantastica tra l'altro e qua compriamo tutto ciò che ci può servire si reinforced par autopistol no eeeh cloth no ok niente di nient'altro di bello ok psikaitita lo do gojuice anche perchè spegniamo così tanti soldi ah perchè avevamo preso i barrel ok si 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 va bene certo abbiamo comprato questi che costano 663 l'uno quindi sai diciamo che è ok la beer la beer teniamola perchè potrebbe essere buona ah facciamo così pur esatto solite cose brutte pur abbiamo awful anche ok non lo vuole e cose inutili in realtà cose inutili tipo esatto le cose manuali che non ci interessano neanche neanche le armi ci interessano troppo volendo proprio volendo vedere tutto esattamente magari niente davvero da vendergli davvero niente da vendere magari ecco cose quasi rotte tipo no 58 ecco cose praticamente rotte gliele diamo tanto noi non ce ne facciamo niente ecco cose già sotto ok si cose sotto che revolve possiamo darglielo questo possiamo darglielo normal 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 cose flak pants flak pants valgono un sacco cose già semi rotte flak pants flat jacket vabbè incendiary launcher direi che non ci serve 63 boh andiamo così intanto è uguale bridoa dove sei dove sono finiti ah ok sono qua sotto eh sì perfetto stai facendo una cosa giusta ah ship engine dove è bridoa qua ok fai una cosa buona priolitis priolitis ok quindi stanno aulizzando tutto ok anche qua siamo ready in realtà ok qua il motore è praticamente pronto quindi ne abbiamo tre e ci manca questo perché per sbaglio l'ho demolito ah 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 a parte quello però launch report dato che ci manca ship reactor va bene questo no sì no sì però fai questo che vedete è praticamente finito però non lo finiscono in realtà quindi ok ok abbiamo i tre reattori che ci servono ship engine sì vabbè adesso e dobbiamo buildare anche questi in realtà che si fanno sempre con tre component potremmo accumulare secondo me un po' di 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 altro steel tipo qua vicino secondo me non è male perché lo perché esatto perché ci attacchiamo alla nostra base in realtà quindi possiamo secondo me fare tranquillamente così esatto perché lo steel in realtà fa comodo averne tanto perché dopo avremo quel momento in cui non possiamo muoverci sostanzialmente quindi sì fa assolutamente comodo e allora smarty fammi questo favore no reserve to zebra ah ok stanno già facendo sì sta già facendo ok zebra bravissima ah stanno facendo ok tutti lo stanno facendo ok sì non hanno veramente niente da fare comunque i nostri i nostri coloni eh io ve lo dico ma questo si può anche uninstall uninstall e beh sì diciamo che facciamo così tanto questo qua non ci serve più quindi facciamo orders deconstruct eh no tutto sì tranne tranne questo tranne questo e prendiamo qualcuno di bravo tipo tu sai sparare sì un po' sì va fai così no 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 fai così spara questo e così crolla il soffitto perfetto sì sì no è tutto tranquillo ok no no non rebuildarlo ok perfetto e zona base in realtà la togliamo quindi eh zone clear qua non è zona che ci interessa neanche qua ok altre zone ok zona base in realtà è tutta quella zona qua quindi ottimo ok qui esatto abbiamo un sacco di gente che adesso scava steel abbiamo gold eh e plastile ecco plastile ci serve però perché adesso questo quello demolito ci serve 280 plastile eh però non lo abbiamo più in realtà quindi dobbiamo organizzare una fantastica carovana questo cos'è? eh collection valuable items bah eh no non mi interessa quindi no form caravan facciamo vabbè facciamo direi così ok sì accept eh mandiamo non tutti in realtà mandiamo rain acuia acuia che tanto sono insieme esatto e zebra zebra e anche cosa? anche bridoa bridoa che è quello che è quello un attimino più skilled a parlare in realtà questo cosa succede? ah ok master sì sì va bene eh ah prendiamo i donkey prendiamo vabbè ok vabbè visibilità in realtà non cambia praticamente nulla cioè ci potrebbero attaccare ma vabbè in realtà non è non è un problema grave allora qua io farei queste robe qua magari le vendiamo perché occupano spazio nel nostro inventario in realtà io non ci interessa troppo e anche del ecco prendiamo anche del silver anche il silver siamo messi abbastanza male in realtà travel supply no mettiamolo manuale prendiamo 150 così send perfetto ok ehm dicevo siamo messi abbastanza male con il silver però il silver ne abbiamo un po' in giro in realtà quindi volendo eh tipo anche qua abbiamo dell'uranio tipo eh vicino alla base cosa abbiamo di silver mi sa niente qua abbiamo del silver ok tipo ecco tipo quel silver lì lo prenderei cioè non perché ci serve ripeto ma perché se ne abbiamo un po' di più per comprare acquistare è meglio visto che ripeto eh fra poco in realtà appena abbiamo fatto quello siamo pronti ehm fra poco siamo siamo in in un momento diciamo di eh attacco continuo in cui non possiamo spostarci dalla base in realtà allora il nostro obiettivo ora è recuperare plastil quindi anche qua abbastanza eh safe diciamo la situazione ok qua abbiamo la nostra eh zona sicura diciamo che è sicura fino a un certo punto perché perché potrebbero comunque attaccarci da fuori qua la zona non è bellissima sono d'accordo perché le torrette si sono belle ma sono tutte vicine quindi se ci attaccano da vicino possono saltare in realtà quindi quindi c'è questo dettaglio però ok ehm ah qui si manca energia facciamo così ehm power facciamo così eh sì facciamo così ok che poi dopo tanto lo toglieremo ok qua loro fatto ah qua non abbiamo abbiamo anche del gold all'interno tra l'altro ok buono e facciamo così secondo me dovrebbe bastare puoi puoi buildare questo sì builda questo grazie no non l'hai fatto o sì no sì no sì no non l'ha fatto ah identical things already exist ok perfetto ok così adesso abbiamo anche questo qui abbiamo altro steel altro steel ripeto accumuliamo un po' di steel tanto qua di spazio dove appoggiare la roba già l'abbiamo plastil ne abbiamo zero praticamente ehm anche di legno io direi che visto che stiamo facendo poca roba possiamo un attimino disinfestare questa zona di alberi che così recuperiamo del legno da tenere semplicemente tanto tanto siamo tutti tanto siamo tutti abbastanza trade siamo tutti abbastanza tranquilli in realtà in questo momento quindi quindi ecco diciamo che non è che ci interessa componenti assolutamente sì 58 un sacco di componenti e plastil importantissimo plastil plastil ok ne hai poco però ne avete molto poco in realtà quindi abbastanza male come situazione ok qua ti posso vendere tutta quella roba qua componenti in realtà adesso li possiamo produrre abbastanza in modo veloce ma preferisco dagli così ok possiamo procedere trade possiamo procedere verso l'alto in modo da appunto andare a prendere altro plastil che ci serve quindi sì beh qua ok siamo in attesa del plastil qua abbiamo la nostra farm di pannelli solari ok ah qua abbiamo un'altra cosa ok ah questi qua sono quelli non amicissimi con noi in realtà però abbastanza messi bene 790 chemfuel allora se trovi qua fan comodo ma io farei questo così siamo amici di questi e non dovrebbero attaccarci in teoria chemfuel l'abbiamo 1736 quindi direi che possiamo permettercelo e dove sono però ah loro sono qui in realtà eh sì sono vabbè in realtà lontanini ma non troppo ok ah possiamo fare una seconda spedizione io direi form caravan che va qui in fondo semplicemente con dentro però non vorrei mandarvi a tutti con dentro solo 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 stingray direi 790 vi ho detto io ne porto 1000 duevi va bene sì sì non è un problema e prendiamo un solo cavallo ok siamo più veloci se prendiamo più cavalli sì con più cavalli siamo più veloci non so per quale motivo ma ok ok e roba da vendere ripeto non ne abbiamo al momento quindi e andiamo semplicemente con questo quindi send eh sì ok ok solo stingray questo è abbastanza pericoloso però in teoria dovremmo essere semi safe da quando è che abbiamo i maiali no abbiamo dei pig per qualche motivo che abbiamo tutto tranne advanced component in realtà che però non stiamo più craftando ormai non stiamo più craftando dovremmo secondo me fare ah missing plastila ecco perché perché per fare i componenti serve plastil va bene eh poco grave in realtà la situazione ok siamo arrivati ok perfetto siamo venuti proprio qua nel momento giusto ok possiamo prendere altri componenti in realtà cosa che voglio proprio torniamo a casa con una quintalata di componenti plastila anche sì tutto lo voglio e e basta abbiamo bionic arm che beh ci potrebbe fare ok accessibile per fare praticamente per uso di ok ok no 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 ok ricordate che avevamo una tonnellata di silver non è più così ok Però almeno siamo un attimino potenti Quindi va bene Ok siamo anche semi amici con tutti Esatto Allai 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 Questo siamo neutrale però adesso facciamo la quest E diventiamo allai con questi E niente Lago Tribù e questi signori qua invece sono sempre ostili Perché sono ostili sempre Quindi questi non possiamo in nessun modo migliorare Però vabbè Diciamo che ok Questi due qua sono natural goodwill Però siamo amici anche loro Quindi bene Molto bene in realtà Ok Stingray sta partendo Perfetto Questo qua cos'è? Ah ok è un cosetto morto Non ci interessa Sì qua esatto Recuperiamo un po' di silver in realtà Che poco in realtà però fa comodo Lo stesso Stealer lo stiamo recuperando E altre robe interessanti Qua abbiamo del gold che potremmo recuperare Ma poco interessante al momento Qui facciamo così Così almeno Sembra ordinata la situazione Anche se Anche se in realtà non è così però Ok anche qua io direi di fare così Ok e lo colleghiamo qua Così resta un po' più di gente Resta Falcon fai questa Ok Benissimo E adesso Esatto Torno ai nostri amici E dovremmo riuscire a Fixare il tutto Anche Rain dovrebbe essere fra un attimo contento Perché gli diamo l'armatura un po' più potente E Niente E qua Per fare questo Mi sa che ci serve altro plus steel però No Steel Advanced components Sì Ah di componenti Adesso ne torniamo con un sacco In realtà Quindi Quindi è Ottimo direi E assolutamente Ok Carovana è arrivata a Craftolandia Ok Con tutto il nostro materiale Anche Ah questi qua stanno Passando in realtà O forse volevano vendere cose Ma non li ho Non li ho cagati Può essere anche questo Potrebbe essere anche questo Dettaglio E Abbiamo detto Zona Qua siamo senza tetto Giusto Sì Qui siamo senza tetto Non ci deve essere assolutamente Ok Perfetto Uh Kena Ha fatto Ha messo i componenti Ok Ehm Ok Carovana è arrivata qui Perfetto Fulfill trade off Perfetto Quest completed Ehm Ok Siamo arrivati a 51 Siamo amici adesso No Ne è utile ancora Ok Dovremmo Facciamo che commerciamo qualcosa Ehm Beh in realtà Non ho portato niente Da commerciare Quindi Anche questo In realtà È un dettaglio Se gli do delle patate Delle Berry Così è giusto per Ok no Non è successo niente Ok Torna subito a craftolandia Allora Perfetto Qua hanno lasciato la cosa a metà Va bene Classico Chi è che sta arrivando A craftarlo Nessuno Ok Eh Componenti avanzati Esatto Dovremmo recuperarne un po' Abbiamo del plastil Non tantissimo In realtà Molto meno di quello che Potrebbe sembrare Però almeno facciamo i componenti Ehm Cosa problematica In realtà Sarà Eh Dopo recuperare Eh Materiali In realtà Cioè possiamo Dopo possiamo solo comprare Mi sa con Con questo Quindi non Non benissimo Diciamo Però va bene In realtà fattibile Ok Fallo però Non fermarti Perché Qua Siamo alimentati Siamo alimentati Guarda che si sposta Lo so già Attenzione Andate a vedere Attenzione No Ok L'ha finito Strano Ok Ci serve solo questo Che purtroppo Ripeto Già c'era Ma L'ho Per sbaglio Demolito Mi sa che non abbiamo Abbastanza Plasteel Però sapete Abbiamo 200 Ne vorrei di più Ne vorrei Vorrei più Plasteel Andiamo da comprarlo Uh Ok Jump to location Ah ok Va bene Eh si Sono Veramente tanti In realtà 35 Però La base La base In teoria Dovrebbe Dovrebbe Il sistema di difesa Dovrebbe automaticamente Risolvere il problema Ah e le trappole Stanno facendo Il loro fantastico lavoro Tra l'altro E le torrette Anche quindi Quindi ok Ok perfetto Ecco l'unica L'unica cosetta L'unico dettaglio Questo che è Oh no Ah E E E Fall 57 Cioè Non ho Non ho capito Quindi cosa è successo Ah Ah Uranium Slug Turret Ah ok Eh Sì E Voi Volete Metterlo Qua dentro Non ho capito Perché non possiamo Piazzarlo E Ok Allora facciamo così E Stockpile zone E Sì E Facciamo così Lo mettiamo qua Clear all Corpse Colonist corpse Esatto No Solo Colonist corpse Ok John Priorities howling Ok 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 Così rimane qua Esatto Rimane Firmo Diciamo Ehm Non possiamo farlo Ehm Riattivare Perché Perché di no Ok Facciamo una cosa Tanto non possiamo più Riattivarlo In realtà Mosquito Ehm Ah beh Cooking Ehm Non dovrebbero servire Non dovrebbero servire Speriamo che non servano Anzi no Non mettiamole qua Mettiamole in quella zona qui Con la zona qua esterna Qua Ah qua facciamo così Che è brutto Tanto in realtà non serve Ok qua facciamo così E qua facciamo zona Zona diciamo Avete capito Perché Purtroppo Vi dico la verità Mi aspetto che Ehm Un po' adesso Un po' adesso Diciamo Muoiano Visto che ci saranno Attacchi continui Ehm Sì Cosa succede? Ok Carovana è arrivata Craftolandia Va bene Ehm Abbiamo Ah abbiamo 8 Advanced Component Perfetto Ehm Va bene Mosquito Andato Diciamo Mal Missing No non è vero Ah ok Ce l'ha già in mano qualcuno Sì Ok perfetto Ehm Sì Allora Mal fai questo per favore Priority is working So che non è Un working carino Ma Ma mi serve Che lo fai In fretta Ok Qua stai facendo? No Ok Ehm Ok possiamo Fermati Mal puoi fare così No Questo cosa possiamo fare? Assign coin onest Ehm Ma qua Ma scusa Ma questi Non possiamo No Questi qua Vedete che non capisco Perché non possono Contenere cose Questi Cioè Contenze nothing No? Ma Enter Eh ok Ma se io volessi mettere Tipo questo Qua dentro Non posso Ehm Sì Allora No Strip No Ehm Boh Facciamo così Nel senso che Nel senso che Sì Solo Colonist Corps Direi No Stranger No No Ah qua Facciamo così Ehm Vabbè Facciamo così Dai Tanto mosquito Ormai Diciamo che Diciamo che Non è più bello Insomma Diciamo che Ha avuto dei problemi Tecnici Va bene Ehm Ehm E niente Quindi va bene Abbiamo perso mosquito Ma Ehm E' così Perfetto Quindi Mosquito in effetti Ehm Ehm Morto Diciamo Quindi Ehm Bene Cioè bene Non bene Ma Ma è così Ok Facciamo anche un'altra cosa Che Non ci serve Ma la facciamo lo stesso Perché di sì Ehm Qui io farei questa cosa Ah domanda Qua Da fastidio Se Ah sì Potrebbe dare fastidio Se Se è coperta Da Dal Vabbè Lasciamo il ponte solo là in fondo Allora Chi se ne frega Questa Demolita questa pianta Ok Ehm Qui stiamo Uh Stiamo buildando Nuovamente Il Il reattore E Quindi niente In realtà Ce ne serve una di meno Allora Perché Perché sì Ok Ehm Ah qua ci serve in realtà Solo advanced component Però per fare advanced component Ovviamente Ovviamente Ci serve Ehm Ah facciamo Arena Acuia Non penso di poter trovare qualcun altro Al momento Quindi Quindi Vabbè Vabbè Brido 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 Ok E prendiamo anche i nostri fantastici Cavalli magici Quindi questi Questi Proprio prendiamoli tutti Tanto è uguale E ci serve E ci serve Silver Solo 1930 Veramente poco Signore Però In realtà In realtà Ok ecco Ecco quelle robe qua Però possiamo Tranquillamente venderle Perché non ci interessano Assolutamente niente La birra Anche possiamo venderla Direi Ehm Queste fox Tantissimi componenti Che è buono Ma è un poco Plastil Dobbiamo Dobbiamo Recuperare Proprio Una quantità Una quantità esagerata Di plastil Dobbiamo recuperare Perché voglio avere anche tutte queste Vi ripeto Più Più coloni Trasportiamo via Meglio è Quindi Comunque In questo episodio Attiviamo l'astronave In effetti Quindi Molto bene Molto molto bene Esatto Plastil purtroppo No Ok Non finisci Questo Che tanto L'hai praticamente finito Fallo Che poi Puoi andare dove vuoi Esatto Fai questa Cosetta qua Dai Ti manca solo una striscetta Di 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 pezzettini Ok Abbiamo di nuovo Il nostro Fantastico Reactor Allora Ibernating Component Cannot launch Abbiamo ship reactor In deibernating Component È l'ultima cosa In realtà Che ci Che ci manca Diciamo Quindi Ottimo Assolutamente Ottimo Allora Che cosa ci può servire In realtà Dalla roba che abbiamo qua in giro Praticamente nulla Jade In realtà Non serve a niente Però potremmo venderla Quindi Secondo me Potremmo Venderla in qualche modo Ecco abbiamo uranium Cosa Questo steel Questo uranium Ecco abbiamo dello steel Uh 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 Cosa è successo Uh Abbiamo avuto degli schizzi elettrici Non bene signori Venite tutti a spegnere il fuoco Abbiamo avuto un'esplosione elettrica In realtà Quindi poco Poco bene Diciamo Ok Di Qua non stanno rebuildando Tra l'altro Quindi Cioè se ci mettono così tanto tempo a rebuildare Non va bene E Soprattutto Ah certo Soprattutto Abbiamo anche il dettaglio Vedo il fatto che Ehm Ma stai dormendo No Vieni a fare questo Allora Così abbiamo finalmente finito anche tutti i muri Così i muri sono attivi diciamo Abbiamo purtroppo questi muri di legno qua che non sono bellissimi ma proprio Per niente però è necessario diciamo perché passiamo sopra l'acqua quindi ok Sì tra l'altro ecco la nostra base Cioè è un pezzo di base in mezzo a E in mezzo al fiume quindi Non è che sia proprio splendido Abbiamo advanced component in realtà da poter comprare Però costano Cose da vendere No medicina no Cose da vendere Sì ne abbiamo un po' quindi Bene Ah queste le volete Fantastico Grazie Ok Cose che possiamo comprare da loro invece Steel 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 Gold No Eh plus steel Ce l'abbia ce l'hanno Plus steel 123 Non ne hanno tantissimo però ce l'hanno Quindi possiamo ovviamente comprarlo E basta praticamente Accept Torniamo In base Visitors Chanei Heatrap Oh no Ha fatto Qualcuno ha fatto saltare una trappola e si è fatto male Chanei Ok I No Non bene diciamo Ti va a dire Rest until healed E tipo Kena viene a dargli una Una riparazione Ok 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 perfetto Non so chi sia John Ok John Ha fatto cose giuste Ok Crack Crack Blood loss Va bene Alcol tolerance Ok Qua siamo arrivati a Craftolandia Va bene Visitors invece A few items to trade A few items to trade Vieni qua Trade La fulmine Ok Allora zona un po' Poco sicura In realtà E quella zona qua Quella zona lì è poco sicura Package survival Non ci interessa Reinforce barrel Ne abbiamo 19 Direi che non ci servono Machine pistol Direi che non ci servono No Non ci serve Praticamente nulla Possiamo Pure Sì possiamo vendere Queste robe qua Ah ufful Ma tanto non abbiamo niente Dico le robe qua Esatto Praticamente non abbiamo nulla Abbiamo un sacco di skill trainer Che non sto utilizzando Però in realtà Vabbè che non ci interessa In realtà Però Diciamo che potremmo farle Anche Explosive shell Cioè le shell Io direi di craftarle Vi dico la verità Ah facciamo così Ne prendiamo solo Priorities Eh Le shell Ah questo cos'è Eh sì Non ci interessa Eh qua No Dov'è che si fanno le shell Questo Che cosa Marinello Ah qua abbiamo tutto sospeso In realtà Eh qua secondo me Shell Esatto Explosive shell Si fa con Esatto Chem fuel Ok Questo si fa con Componenti Questo si fa con Ok Eh io direi Craftiamole tutte Eh Fino ad avere Mettiamo Fino ad avere 30 Di tutto Incendiary shell Fino ad avere Until you have 30 Ok Questo ne abbiamo già di più MP shell Until you have 30 Così almeno Ne abbiamo 30 Diciamo Sempre fatte Che Vabbè Firefoam In realtà Non ci interessano Però va bene Facciamo Facciamo Lo stesso Tanto Costano Tutte uguali In realtà Quindi Poco Poco grave Diciamo Qui abbiamo Fermi Manufactured Mortar shell Ok abbiamo Tutte Shell E anche qua Giusto Esatto Si sono Linkate Ok Perfetto E Ok Queste Le Queste le Facciamo così Le reinstalliamo Le reinstalliamo Qui Ah ok Dai prendiamo Questo oro Qua Che tanto Così almeno Sono dentro La base Anche perché Ripeto Adesso Facciamo L'attivazione Della Dell'astronave Quindi Non ci Non potremo Più fare Niente Ok Non possiamo Più uscire Allora più che altro In realtà Cosa che Non è che mi piace Tanto E' quella parte Qua della base Perché è Poco sicura La parte Di base Qua è Molto poco Sicura Signori Perché E' quella Più corta In realtà E' la parte Di base Più corta Che abbiamo Quindi Ovviamente Risulta Nel fatto Che Diventa Poco sicuro Ovviamente Quindi facciamo Così Giusto per Allungare Un attimino La possibilità Che inciampino Su qualche Trappola Anche perché Dopo Mi sa Cold snap Ok No Anche perché Mi sa Che dopo Quello che succede E' che I signori Vengono Ci attaccano E basta Praticamente No Plastine Abbiamo Veramente poco Ah qua Finiamo di Buildare Questo muro John Ti va di Ok Finiamo di Buildare Questo muro Così Tutta la base È protetta E tranne qua Che è veramente Debole A questo punto Di base Ma Non ho Tante soluzioni Purtroppo Ok Anche questi qua In realtà Potremmo Recuperarli Cioè Volendo Cioè Non lo stiamo Facendo Ma Volendo Potremmo Ok Allora Qua In realtà In realtà Possiamo andare Tanto ci mette Un sacco Ad attivare La ship Quindi volendo Possiamo buildare Anche dopo Ok Eh Sì Eh Direi che Possiamo procedere Con l'attivazione Dell'astronave Io direi In realtà Direi che possiamo Tranquillamente Attivare La Attivare appunto L'attivazione Dell'astronave Allora qua Facciamo così Anche scusami No Can't assign To construction Mal Fai così Così almeno Mi Mi mettono Lo scaffale Magico Perfetto Ok Mettiamo lo scaffale Questo qua Singolo Build copy Ok E mettiamo dentro Clear all Camp fuel Clear all Steel Ok Così non devono Fare tutto il giro Per buildare Questi due pezzettoni Ok mal Guarda se ti va Di fare questo Così poi Sei similibero Di Abbiamo poco legno Però eh E legno In realtà Ce ne serve tanto Quindi Non so voi Ma io farei Una roba del genere Farei proprio Una roba del genere Tagliamo un po' Tutto quello che abbiamo Intorno Giusto per avere Tanto legno Perché Tutte le nostre Trappole Sono di legno E tra l'altro Non si possono fare In altro materiale Quindi Se Esatto Quindi va bene Adesso qua ci metteranno Un po' tanto Ma Esatto Perché tutte queste trappole Qua sono di legno E tra l'altro Costano 45 Legno Ogni volta E quindi Non troppo splendido Diciamo E però Normalissimo In realtà E qui Vabbè Facciamo anche Questa roba qua Così Possiamo buildarla Cioè così ce l'abbiamo Anche se in realtà Non ci serve Però Almeno ce l'abbiamo Esatto Perché qua abbiamo Tutta una zona qua Di legno In realtà Ok Qua abbiamo Wooden shelf Ok Con questo Qua vediamo Se ha buildato Questo Si ha buildato questo Che così possono Costruire Questa cosa Perfetto Qui abbiamo fatto Questa roba qua Che non ci serve Va bene E Ok E qua però È una zona molto debole Io vi dico Io vi direi Che qua è una zona Molto debole Che sostituisco Anche qua Vi dico Proprio anche qui Anche qua Io farei Questa cosa Non perché serva Ma Perché se mi Sparano contro È più che altro Che Eh sì Però Consumiamo Plastillo Ovviamente Facendo questa cosa Tra l'altro qua Mi sa che scolleghiamo Eh Sì qua Scolleghiamo un pezzo di base No no Perché c'è anche Il collegamento qua Ok Sì tra l'altro Passare con i cavi Sulle porte Non è un'idea top Diciamo Secondo me Però Allora qua facciamo così Qua facciamo Così Anzi 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 Visto che È sicuramente Più urgente Facciamo Facciamo così E così Che è la parte Più urgente Eh Door Di Plastillo Direi Due fantastiche Plastillo Door Che anche qua Costano Plastillo Quanto 5 Plastillo Eh Costa un po' In realtà Perché È anche qua In realtà Dovrei farlo Perché anche qua È tutto di regno È che purtroppo Il Plastillo Ne abbiamo Veramente poco In realtà Quindi Poco bene Insomma Ok Qua abbiamo Componenti Infiniti Sostanzialmente Quindi Quindi va bene Il componenti Non è più un problema Veri componenti Il Plastillo Invece è un problema Perché è finito Completamente È che qua In giro Mi sa che Non ce l'ha più Nessuno Il Plastillo Però Eh no E cioè Io qua in giro Di sicuro Non ce l'ho Il Plastillo E fin qua Purtroppo Purtroppo Lo so Non c'è neanche Sottoterra Purtroppo È quello Quello È parte Del problema In realtà Cic È morta Va bene Ok Eh Qui vabbè Stiamo facendo Anche questo In realtà Eh Gold Cose Possiamo vendere Un po' di gold In realtà Sì ma Il problema Non è vendere Il problema È proprio E qua però Bisogna farlo In frettissima Perché E Proviamo a far così Bisogna farlo in frettissima Perché Perché Assolutamente Non voglio lasciare aperta La base Perché Cioè Già Già sono punti deboli E poi La zebra E brido Mandiamo sempre Brido Brido Che c'ha l'accento strano Quindi non esce mai E Mandiamo Horse Horse Sì Items Allora direi che possiamo portare Gold Tipo 2000 di gold Portiamo E 2000 di silver E altre roba strane Mi sa che non ne abbiamo Da poter vendere Al momento C'abbiamo Ma vabbè Birra ma Qui vale a nulla Unfinished Abbiamo un po' di Steel Ah Smoke leaf Abbiamo un po' Ma Praticamente nulla Anche quello E niente Travel supplies Io direi 134 Send Conferma E si vola Ci serve Blastill Non so se qua Hanno quello che ci serve Ma Al massimo andiamo anche di là Ma Penso di poter fare Tanto altro Al momento Punto in realtà Quindi Ok Quindi è così Punto Eh si Ok qua facciamo Così direi Direi che facciamo così Così almeno qua è un pochino Più carino Tanto lì non ci serve Questo spazio Qua vabbè abbiamo Cosa di legno Ma non possiamo Rimpiazzarlo E qua abbiamo Parte di legno Che sarebbero da Rimpiazzare In realtà Però Anche qua Eh vediamo Qui Questa è una zona poco sicura Al momento eh Perché abbiamo Bucchi nelle pareti Bucchi nelle pareti Non buone diciamo Decisamente Decisamente Non buono Non bene diciamo Ecco Non bene Allora facciamo così Facciamo più Più drappole Giusto per Visto che Visto che fra poco Abbiamo detto Che ci attaccheranno Praticamente Cioè è certa Questa cosa Che c'è questa roba Con la sola Nel senso che Ci attaccano Eh a un certo momento Ci attaccano Quando Quando attiviamo L'astronava Quindi Eh Food bring Simi Quindi Non bene diciamo Per niente bene Ok Più che altro E che abbiamo Tre ingressi E non l'abbiamo Fatto bene Non ho fatto nessuna Killbox Perché è brutta Le killbox Però ecco Abbiamo questo Dettaglio Diciamo Ok Abbiamo Ambrosia Sprout Va bene Ok Ci serve Del blastil In realtà Carovana Arrivata Non avrà Non avrà Assolutamente Niente Guarda Plus Esatto Zero Infatti Ha Tanti componenti Ma Vi dirò Che non mi servono Al momento Non mi servono Quindi Quindi no Gold Vendiamo Finchè non ha più soldi Tanto Vediamo Finchè non ha più soldi Così tanto Ah Tra l'altro Costa un sacco Il gold Quindi Quindi buono Ok Così Accept Trade Con questi E purtroppo Non hanno Plastil Mi sa che nessuno Qua intorno Ha più Plastil Cioè dovrei andare In altre In altre zone Più lontane Solo che la zona Più Questi qua Secondo me Non ce li hanno Adesso provo ad andare qua Ma per me Non ce li hanno Quello più vicino Sarebbe Questo Oppure questo Che sono Molto lontani Quindi Bah Perché in caso Possiamo Se questo qua Ce li hanno Ce li hanno Pochissimo Ma ce l'hanno Però Però è pochissimo Quindi equivale Al nulla Praticamente Ok Facciamo Anche con voi La stessa cosa Facciamo Meno Meno 100 Vediamo se Ah ok Meno 200 Tanto il gold In realtà Praticamente Non serve Quindi Cioè Serve per fare Pochi crafting E nulla Delle cose avanzate Che stiamo facendo Quindi Ah possiamo Provare ad andare Anche qua In realtà Nel senso Che Siamo Molto veloci Cioè Qua siamo Lenti Andando Perché qua Che velocità Va qua Non ce lo dice Terrain Eh Movement Difficulty 1 E qua Invece 0.5 Quindi Sulla strada Possiamo Siamo più veloci E ripeto Potremmo provare Anche andare qua Ma qui sono Veramente lontani In realtà Quindi Quindi Boh Vabbè Però Ecco in caso Possiamo provare A fare Quella operazione Lì In caso Tanto qua Ecco Tanto di gold Esatto Ne stiamo Estraendo Anche altro Quindi In realtà Non è grave E Prima di attivare Questo Voglio Vedare Questa cosa Qui E Anche qua Voglio Qua Anche questo Muro qua Di legno Debolissimo Devo cambiarlo E anche qua Assolutamente Qui purtroppo Abbiamo anche I cooler In realtà Che non Sono Belli In realtà Non sono belli Però Però Possiamo fare Questa cosa Qui Ah qua Abbiamo Ok il freddo Possiamo fare Questa cosa Qua in realtà Possiamo Rimpiazzarli E metterli Qua Perché tanto Non ci interessa Perché tanto Quella zona Qua è tutta Collegata In realtà Quindi Quindi Esatto Anche qua Possiamo fare Sì Non lo facciamo Adesso Però possiamo Fare così Rimuoverlo Anche qua Tanto i cooler Esatto Possiamo fare Perché servono Stili e componenti Che ne abbiamo 112 Quindi Direi che Di componenti Assolutamente Non abbiamo problema Advanced component Ne teniamo 10 Tanto Ok Rain Mi sa che Non riusciamo A potenziarlo Però Va bene Vederemo Vederemo Per il momento Va bene così Siamo messi Benino Secondo me Non so se riusciamo A vincere Ma Potrebbe anche Essere di sì Non con tutti Questo Purtroppo Non succederà Ah Perfetto Un fulmine Ha colpito La nostra Base Ok Ma qua Storm raccoglie Anche questo Per il test Quello Di L'ex L'ex Cos Di 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 Bridoa Allora Zona E Anche qua Vorrei fare Una cosa Del genere Plante Facciamo Dei lili Facciamo Così che abbiamo Tutta una zona Bella Intorno a Quella zona qui Ok Qua hanno Plastille Non hanno Plastille Ok Non hanno Plastille Deos food 2.2 Ok Ah Dromedaria Hanno qua Vabbè Poco utile Rubiamogli tutti Cioè Rubiamone Prendiamo tutti No 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 Così no Meno 2000 Vediamo Prendiamo Quasi tutti i soldi Tutti i soldi Che hanno E così Abbiamo tanto Silver Perché il silver In realtà Al momento ci serve Per fare Grandissimi Acquisti 171 Direi Ok Indietro Accept E possiamo provare Anche andare qua Quanto ci mettiamo 2.2 giorni È molto Molto Lontana Perché qua Purtroppo Qua purtroppo Ci sono solo Gente brutta In realtà Qua ce ne sono Tanti Esatto Anche qua In realtà Ce ne sono Tanti Anzi Andiamo qua Trade Che tanto Qua dovremmo Riuscire Ah Perfetto Un fulmine Ha colpito Il donkey Ok C'è anche questa cosa qua Che può succedere Quindi non bene Questa roba qua Non l'avevo mai vista Direi Non ottimale Direi Assolutamente Non ottimale Ok Beh qua Ecco qua ripeto Possiamo fare una cosa Con dei liri Direi Così Ho anche dandelio In realtà Vabbè Va facciamo I cose di No 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 Questo no Sad Banzo Banzo e sad Vabbè Non ci interessa Ok qua abbiamo fatto Le nostre cose Con i cooler E Stiamo in base E poi stiamo a vedere In realtà Perché Ripeto Non ci sono Molte altre Molte altre cose Da fare Cioè Dobbiamo far quello Ma Dobbiamo attendere In realtà Quindi Boh Quindi è così Dobbiamo restare Molto in attesa Ok Eh Sì 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 Dobbiamo restare Molto molto In attesa Va bene No Facciamo anche così Giusto per avere Un po' più di Illumination Illuminazione Così Così Ok Si ripeto Non serve a niente Ma almeno Almeno Sembra carino Che non è Non è carina Ma sembra solo Perché non posso Piazzare qua questa Ah Block ship Ah ok qua va bene Exotic trader Uh ok Sì ecco questo Invece mi interessa Non abbiamo Bridoa Eh Però vabbè Facciamo parlare Qualcuno a caso Perché Se avessero Del Del fantastico Plastil Lo voglio comprare Uh ce l'hanno 164 Però al momento Non abbiamo soldi Quindi male Molto male Eh Ah 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 Al momento Non abbiamo niente Che loro vogliono Però Tranne un po' di animali In realtà Vorrebbero degli animali Ok Possiamo permetterci Di vendere Degli animali In realtà Ah pig È perché di altro Non ne vogliono Quindi Ah qua abbiamo Due boomlop Female Quindi ci interessa Poco Creiamo Un sacco di mare In realtà Female Quindi Direi che possiamo Fare così E abbiamo solo 11 Eh Ah Plastil No Perché ci serve Ah poi possiamo vendere Reinforced barrel In realtà Però Sì vendiamone uno Ok Ok Abbiamo Abbiamo qualche Pezzettone Di plastil Non tantissimo Ma direi decente Ok abbiamo Perso anche Abbiamo un paio Di animali Ma Poco grave Tanto in realtà Si Si ribildano Ok qua mi piantano I miei bellissimi Dei lili E così almeno Abbiamo questo Campetto Fiorito Intorno a Diciamo Queste Coast qua Diciamo Intorno a Queste cose Qua brutte Ma ce ne sono Anche di più Belle Magari Secondo me Sì Potrebbe Vestercene Anche di più Belle C'è Sarcophagus Oppure Self power Descent Sì Esatto Questo Va bene Grande Stile E Niente In realtà Ok Qua Questo Hanno Plastil Sì No Non hanno Plastil Va bene Qui non hanno Plastil Non hanno niente Che ci interessa Possiamo scambiare Un altro po' Di Gold Però Ah qua Troppo 449 Ok Accept Andiamo anche qua Trade Plastil Ce n'è veramente Strapoco Al momento Signore Quindi 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 è un po' Noioso Come situazione Ma qua Non c'è nessuno Che sappia Cattare gli alberi Fammi vedere Non c'è davvero nessuno Che sa Cattare gli alberi È Schedule No Work Plant Cut Ah no Non c'è effettivamente Nessuno Però scusa Potreste farlo tutti Tanto Chi se ne frega Facciamo Questa cosa qua Così Ah ok Aspettate Plastil Non ne hanno Quindi Male Male Ah Questi qua Hanno un sacco di soldi Però Si però Ok Un sacco di soldi Ma non sufficienti Per comprare tutto il nostro Tutto il nostro Gold Ok Prendiamoli tutti i soldi Così abbiamo Una grande abbondanza Di Di silver E possiamo utilizzarlo Nella fase finale Per acquistare Dalle 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 Spaceship In realtà Perché è l'unica cosa Che mi sa che possiamo fare E Fermati Fermati Ok Qua Enter Craftolandia Ok Allora Qua abbiamo detto Facciamo Plant Cut Mettiamo Plant Cut Tutti a uno Ok Tanto Esatto Tanto non lo fanno Però non mi interessa Cioè Così almeno Perché tanto il Plant Cut Non lo facciamo praticamente mai Quindi Che almeno Vabbè che potremmo Lasciare solo chi è bravo A farlo Tipo questi qua Che non sanno farlo Togliamoli Ok Tutti gli altri Invece ne mettiamo uno Almeno così dovrebbero Esatto Dovrebbero andare A tagliare Abbiamo Visitors Abbiamo Visitors Se ne stanno andando No 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 Storm Vieni qua Fulmine Trade Corri Corri Non lasciarlo scappare Corri Corri Voglio vedere Che cosa da vendere Non avevo visto Che erano arrivati Plastil No Non hanno Plastil Però possiamo Dargli qualche gold Così Gli prendiamo Altri soldi Perfetto Accept Priorities Perfetto Ok 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 Qui stiamo Raccogliendo Un po' di Di roba Adesso qua Torniamo con il Plastil 106 Che è veramente Poco Però Però È già qualcosa Molto poco Ripeto Ma C'è La nostra base Ha Dei piccoli Problemi Di Diciamo Difesa Perché Tipo Perché Tipo qua Abbiamo muri singoli Non belli Assolutamente Quindi Cioè Molto deboli Diciamo Teoria Non dovrebbe essere Un problema Allora Qua abbiamo fatto Ok Possiamo Rinforzare Questo Adesso Eh Qua però Bisogna fare Rapidamente Quindi 5 Ogni Plastil Consuma 5 Quindi 1 2 3 4 5 Quindi 5 10 15 20 25 30 35 Ok Possiamo Farlo Perché Bisogna Rebuildare Perché Esatto Se no Gli animali Fanno Questa Cosa Perché Sono Brutti Cioè Fuggono Proprio A fulmine Dove Possono Guardate Come Sono Veloci A fuggire Quindi Adesso Bisogna Recuperarli Tutti Però Tanto Abbiamo Quelli Bravi Che Sono Capaci A Farlo Quindi Non è Un problema Ok Buildate Qua Per favore Rapidamente Ah Adesso Abbiamo Anche Altro Plastil Però Possiamo Fare Tranquillamente Così A Start Ok Hanno Startato Roaming Away Quindi Non Bene Ok Possiamo Però Far Così Tanto Questi Sono Qua Dentro Quindi Non Problema Ok Esatto Raccoglieteli Tutti Don K Hit Trap Perfetto Don K Caduto Sulla Trappola Ottimo Un'ottima Notizia In Effetti Ok Bene Recuperatemi Tutti Gli Animali Ok Qua Manca Un Solo Pezzettone Perfetto Mal Sta Arrivando Ok Perfetto Quindi Nostro Nostra Difesa Ribildata Diciamo Ok Qua possiamo Fare Dobbiamo Fare Così Anche Qua Decostruiamo Le porte Ok Perfetto Abbiamo Solo 16 Certo Adesso Sì Perché Abbiamo Questa Roba Qua Blast Stil Door Ok Quindi Qua Abbiamo Un Minimo Minimo Di Difesa Nel 25 Che Decisamente È Necessario Abbiamo Scoperto Del gold Qua sotto Va bene Poco utile Qua Nessuno Sta trasportando Il Sta trasportando Il Wood In realtà Però Lo stiamo Tagliando Quindi Ok Questo Però Sapete Che mi Da No 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 Ok Aspettate Così Tic E così Si sganciano Tutti Che non Ho capito Perché Succede Sta Cosa C'è Qualcuno Di Morente Qua In realtà Injured Stai Ah Stai Per morire John Che sei bravo Con Canno Troppe Puoi Esatto Rescue Canno Rescue Not Safe Bad Temperature Come Not Safe Bad Temperature Come No Scusami Ah Boh Ok Abbiamo Tendato Lo stesso Non è Safe Per qualche Motivo Ma Boh In realtà Dovrebbe Ok Abbiamo Finito Di nuovo Il Plastille O Non L'abbiamo Ancora Scaricato Per Qualche Motivo O L'abbiamo Droppato Da Qualche Parte Questi Possiamo Riportarli Dentro Per favore Possiamo Riropparli E portarli Dentro Perché Tutti I nostri Animali Sono In Giro John Tu sei Un esperto No Peorities Ecco No Roping Ecco Sono Morti Roping Roping No Clean Roping 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 Ok Dai John Fai Questa Operazione Ah Lo stava Già Facendo Tra l'altro Che è L'unico Bravo Ok Kena Tatra D'apparel Perché Cos'ha di Ah Cloth Button Down Va bene Ok Button Down T-shirt Possiamo Craftarla Button Down T-shirt Fanno Cinque Cinque Ok Perfetto Uh Di Di Coso Premium Tra l'altro Ok Va bene Qua abbiamo questo Non abbiamo plastile Abbiamo detto Abbiamo questo piccolissimo Difetto di non avere plastile E non abbiamo di nuovo Di nuovo più il plastile Quindi Quindi poco bene Diciamo E Secondo me Dobbiamo davvero andare qua Dobbiamo provare davvero Andare qua Non penso ci sia altra soluzione 3.3 days Eh Ah Qua Arena A cui Si sono presi a puni Va bene E Vabbè Facciamo Valoxe Alstingray Che sono altri Boss Ok Portiamoci I cavalli Quanti ne abbiamo Così 10 Ok 10 Si Dove essere sufficienti Ah Portiamoci Ovviamente Silver Gold Quindi Vai Tutto No Non tutto Facciamo 15 Così ne lasciamo un pochetto qua Nel caso passi un'astronave Anche se Difficilmente succede Ma Potrebbe Prendiamoci la Beer E Yayao Che non ci interessa E questa è la 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 Leather Che serve sempre Travel Supplies Facciamo Pemmichan Direi che ne portiamo 75 Esatto Così Ne teniamo un botto E non ho visto quanto tempo ci mettiamo Ma adesso appena partono Li vediamo In realtà Secondo me ci mettono un po' A fare questo Questo giro Allora sapete che però Io direi che facciamo così Perché Stiamo Raccogliendo troppo Troppi alberi Perché si Cioè bene Si gli ho dato priorità Ma Preferisco che Mi trasportino la roba In realtà Preferisco che mi trasportino Il materiale dentro Piuttosto che Cioè vabbè tagliarlo Ok ma Se me lo trasportano dentro È meglio Ok Qua non c'è più nessuno Ok Aule è tutto livello 1 Ma vedo che non lo fanno Ovviamente Zebra no Però Zebra Resta anti-leald E anche Acuia So che siete potentissime Non vi interessa Ma Restate anti-leald Perché Ecco Perché mi interessa Che Siate Oh Siate potenti Ok questi qua sono cattivi Non ho capito se attaccano i mediatri Ma mi sa proprio di sì Ok Eh Si Allora Facciamo così Eh Aspettate Schedule Mettiamo zona sicura Interna No Zona sicura interna È solo lì Eh Home No Solo base Ok si Solo base Perfetto Rientrate tutti in solo base Prego Ok Vediamo anche se la zona Dovrebbe essere aggiornata Però Expand Solo base Dovrebbe essere aggiornata In tutti i punti Sì Ok Abbiamo un piccolo difetto E qua ci mancano i muri Speriamo che i brutti signori Non si accorgono Però stanno venendo dritti Per dritti No Oh no Oh no Sono quelli che fanno Ecco quelle robe qua che non mi piacciono Va bene Ok non è grave Perché possiamo fare così Allora Allora mandiamo Ah qua abbiamo Non mi ricordo più MP no Incendiary E high explosive Ok Allora Man E semi Man Perfettissimo Dai Ok Allora intanto tu fai fuoco Set force target Fai un fuoco qua direi Qua All the fire No Bam Ok ha sparato All the fire Ok mi sa che Mi sa che hanno mancato Però va bene Set force target Direi che possiamo sparare Tranquillamente qua All the fire No Fuoco Perfetto Eh eh Are assaulting the colony Ok Perché stanno assaltando Ok grande Ok sì Li abbiamo fatti arrabbiare Molto bene Molto 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 bene Signori Situazione perfetta In realtà Eh però Vedete che vanno tutti qua Verso il punto In cui non c'è difesa Però Non è male Perché qua è la zona Anche un pochino Più potente Diciamo Ok qua secondo me Potete Tranquillamente Calf Cos'è Ah vabbè Era in mezzo Chissà ne frega Eh La zona un attimino Più potente Perché abbiamo La zona un po' più lunga Dove abbiamo in realtà Più trappole Quindi Ottimo Ok qua se ne vanno Ce n'è qualcuno Semi morente Che magari può unirsi Alla nostra A nostra base No Ok perfetto Eh Dobbiamo andare a fulmine Ok allora Intanto Schedule Mettiamo Zona Solo zona safe Ok E diciamo Sì Ok grazie Claim Ok così Possiamo decostruirlo Tranquillamente Claim Ok No no qua non lo voglio rebuildare Voglio proprio decostruirlo Ok ripeto ecco siamo messi molto molto bene Perché Eh Ah Mal Fai questa cosa Per favore Perché la scorsa volta ci hanno attaccato in modo brutto Mentre No no man Mentre questa volta Come vedete siamo stati Molto Molto powerful Perché Siamo stati molto powerful Perché Lanciando i nostri fantastici mortai Addosso a questi signori Li abbiamo fatti arrabbiare Ci hanno attaccato Quindi bene Perché attaccandoci Si sono mossi praticamente da soli Verso le trappole Quindi Che è quello che deve succedere Quindi ok Loro lo fanno Quindi se loro Se loro lo fanno Ok Eh Non lo fa invece però Uff Caravan ambushed Ok ma questo è molto grave Questo potrebbe essere Una brutta situazione Ah vabbè È solo un omino Ok No Non è per niente una brutta situazione È solo Un Un singolo omino Con È un singolo omino Ma non abbiamo preso Uh Non abbiamo preso Subridò però E hanno fatto questo Piccolissimo errore Ok vabbè Non abbiamo preso Subridò Quindi la roba Costerà un po' di più Ma fa nulla Ok Caravan Battle 1 Quindi possiamo Tranquillamente Reform caravan Dove stavamo andando? Qua mi sa Qua stavamo andando Accept Abbiamo roba da raccogliere Qui Questo Possiamo vendere E basta Questo No roba dead Quindi no Send Ok Procediamo 1.3 days Qua Questa Questa cosa qua è molto lunga In realtà Però va bene Stiamo Stiamo andando con Con Calma In realtà Questa roba cos'è? Iaio Ah tutte Ecco Una roba che Non mi piace Che le armi Ah aspettate qua Facciamo così Anche Ehm Fermi eh Zone Clear rumaria Qua non mi interessa Sia rumaria Qua Neanche Ok E qua Va bene Anche In realtà Ok Sì in realtà Esatto Cioè qua Tutta quella zona qua Il fatto che Che non sia rumaria Non è che mi interessa Anche qua Non mi interessa Ma anche qua Veramente Cioè Tutta questa zona qua Può tranquillamente Non essere zona base Facciamo che teniamo Esatto Solo due puntini Qua così Così Giusto per Giusto Giusto per In realtà Facciamo così Tac Facciamo così Ah qua Facciamo Expand area Anche perché Non so esattamente Cosa serve La 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 base area Ma secondo me Nulla di interessante Cioè Colonist idol Ok Abbiamo Abbiamo sempre I colonist idol Allora qua Tutte le armi In giro Che le raccogliamo Che non ci servono Ma Se qua possiamo Toglierle Che mi danno fastidio No Non si possono togliere Cioè Boh Raccogliamo le armi Tanto Non ci servono Ma ok Così Ok Qua abbiamo Un po' di Un po' di Wood Però l'abbiamo raccolto In realtà Quindi è ottimo Ok Qua internamente Un po' di legno Lo abbiamo Non troppissimo Ma ce l'abbiamo Qua dove sono Stanno andando Molto veloci In realtà Speriamo che abbiano Tanto plastil Tipo 300 Che non è tantissimo Però 300 Posso almeno Ribildare il muro E anche qua Fare Questa parte qua Ed essere Diciamo Safe Essere safe Che è la cosa Che mi interessa Essere safe Perché Nel caso Sparino E demoliscano Il muro Io sono pronto A poterlo Ribildare Ecco Questo Questo è Il dettaglio Qua potrebbero Però Ricorrere tutto Are passing by Ok va bene Sì sì A cui Is full yield Critical alert Come mai Critical alert Tu hai Needs Ah Mosquito E certo Sì Cerco questo dettaglio Ah Trade Ok abbiamo Qualcosa da forse Tradeare Uh qua Noi cobra Ok Va bene Va bene Ehm Va bene Ok Possiamo vendere Bene Birra Iaio Eccetera Eccetera Plastire Ovviamente Va bene In mano Questi qua Non ce l'hanno Non hanno niente Interessante A comprare A parte il cobra Che Beh Potrebbe essere carino Averlo Ma Nulla di Particolare Ok Abbiamo poco Ce la facciamo Sì Deo Scusa Facciamo Ok Ok Procediamo Trade Procediamo Qua Ehm È un po' Sì È un po' Non è molto contento In realtà Ehm Il nostro amico Mal Sì mi Scusatemi Sì mi Però Va bene Però Cioè ci sta Nel senso Abbiamo Questo dettaglio Qua Quindi No Ecco Abbiamo fatto Questa cosa brutta Tranne Tranne Questo Fermati Perché ovviamente Non mi Ascoltano Non mi Interessa Aver dentro La gente Brutta Voglio solo Sulle miei Coloni Qui dentro Ecco Bravi Tutti che vanno Qua a fare Questa operazione Perfetto Grazie Possiamo Adesso Posso fare Questa cosa Ok Ehm No Non posso farlo Ah però Posso fare così Allora Stranger Corpse No Copy Settings Facciamo così Ta 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 Paste Settings Perfetto Tutti questi qua Invece Possiamo Tranquillamente Mandarli qui Nel 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 Corps Esatto Che è già Impulsato così Quindi va bene Quindi tutto ok Ehm Dove siamo messi Siamo arrivati Qua Questa base qua Ehm Potremmo andare anche qua Ma lì diventa complicato Perché abbiamo passato in mezzo alle montagne Ed è difficile Non c'è una strada Ok Vediamo cos'hanno Plastil 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 146 E' poco E' molto poco In realtà Molto molto poco Però E' già qualcosa Diciamo Qui hanno anche animali diversi Tra l'altro Beh ci sta Perché magari sono più Distanti Ah potremmo comprare anche i componenti Direi così Non rimaniamo mai più senza Questo Sarebbe interessante da fare Anzi facciamolo E Plastil Ce n'è veramente poco Quindi Questo è Non bello Insomma Ok qua facciamo così Meno 200 Così Rimaniamo un attimino bilanciati Ah Meno 5 3 7 Meno 700 Ok Meno 800 Meno 800 Ok Così rimaniamo a 0 Non abbiamo speso niente Sostanzialmente E mi sta bene Va bene Accept E niente In realtà qua Mi sa che Vediamo Visit 4 days Eh no 4 days È complesso Eh perché qua in effetti Non c'è un collegamento No Facciamo così Trade E poi Andiamo dentro Ok Torniamo indietro Torniamo da quelli Vediamo se hanno altro Plastil Se no Se no Torniamo dentro Diciamo Ah io qua li ho rimessi Solo zona safe Si Ok Solo zona safe Che in realtà è tutto Quindi Ok Ah qua tra l'altro Abbiamo un sacco di materiale Ok Bene così Abbiamo un botto di materiale Qua vorrei accendere questa cosa Ma Is hiding in the room Ok Ah beh Eh ma che si Certo Perché c'è il dettaglio Che Uh Ah Give them No guarda Valoxea Valoxea Direi che Assolutamente Assolutamente Non viene con voi Quindi Direi che possiamo Piazzarci qua così E Voi brutti signori State State tranquilli Tu brutti signori Perché sia uno solo Uh Rain è potentissimo Ciao Perfetto Abbiamo già fatto Ok Qua va bene Non abbiamo ovviamente Niente di interessante In quelle mappe qua Piccole Non c'è Mai niente di interessante In realtà Quindi Reform caravan Procediamo qua Accept Roba da raccogliere Short bow Magari Per queste tinte da no La stila Assolutamente si Send Ok Niente di Bello Diciamoci Non c'è Non c'è nulla di interessante Da avere Qui potremmo fare Anche così Sapete Possiamo fare Anche una roba del genere Tanto Tanto in realtà È uguale Ah Abbiamo Ok abbiamo esaurito Qua Il gold Va bene E Ok Qua tra l'altro Internamente Abbiamo Steel Quindi Quando poi Siamo sotto attacco Possiamo raccogliere Lo steel Dall'interno Della base Diciamo Che Non è Bellissimo Però È interessante In realtà Poterlo fare Qua facciamo concrete Così È tutto È tutto Diciamo Come si dice Tutto simile Tutto uguale E Sì Ok Qua in realtà Va bene Sì Il fatto che abbiamo fatto La base di legno Non è troppo top Nel senso Il fatto che la base sia di legno Non è Non è affatto top Però Diciamo che va bene Diciamo che per ora va bene Caravan battle Buona Ah sì Ok Eh Qua Sono qua in fondo Ok C'era Qua non abbiamo più le porte Abbiamo pochissima Però C'è Il fatto è che abbiamo pochissimo Tra Passing by Cioè Vedete Il fatto che Allora proviamo Proviamo a fare una cosa Brido Proviamo a fare un'operazione Chiama Questi qua Cosa Caravan trade Eh no Military aid Eh no Vedete che non Non Cioè Ci aiutano Ma Non ci aiutano troppo Quindi Quindi Quanto Quanta roba La nostra caravana Scusatemi Item Abbiamo 146 plus steel Che è Veramente poco Visto che dobbiamo proteggere Tutta questa zona qua Io non so se è sufficiente Vabbè Storm Tra l'altro Storm sta dormendo all'aperto Ma non sembra interessargli la questione Slept outside Solo meno 4 Cioè proprio Dormo all'aperto Non mi interessa Quindi Va bene così Vediamo qua Quando tocca E stanno per tornare Tra l'altro qua Passiamo in mezzo a questo Bruttissimo campo qua Che se fossimo Che se fossimo veramente cattivi Potremmo Attaccarlo Potremmo attaccarlo Demolirlo E E Demolirlo Magari Sapete che Psychic ship Oh no Oh no Questo è brutto Questo è bruttissimo Male Malissimo Malissimo Assolutamente Attiviamo zona Che cosa fa questa roba qua Abbiamo detto Psychic drone Ah Ok Cleara Solo zona safe La zona safe Qua non è più safe Oh Ok Qua Questa zona qua Non è più safe Quindi Kena mi spiace Ma dovrei passare Dall'altra parte Ah Beh anche qua Io direi che non è più safe Però eh Facciamo proprio Così Ok Tutta quella zona qua Non è più safe Ok Possiamo allora Fare una roba del genere Ah perché tanto E appena tornano Gli altri boss Li fixiamo Appena tornano questi E qua vedete Potremmo attaccare questo Magari loro hanno Un sacco di plastille Magari Può essere Però non lo so In realtà Quindi Cioè non ne sono certo Potrebbero Ma anche no Ok Quella roba qua Ok Eh sì Qua siete un po' Incastrati Al momento Qui abbiamo Uh Infestation Ah sì Venite tutti via Per favore Tutti via Tranne Tranne tu Stai qua Così li attiri Aspettate Ok Via 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 Vai lion Ok Uh però Attenzione 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 Spostati Lion Bravissimo Ecco Non dobbiamo essere in mezzo Mentre sparano Questo Questo è ovvio Ok Questo qua Tra l'altro Sapete che Non so Se si può Ehm Teimare Cioè Magari sì Eh Is hostile Eh no Questo qua Piccolo Però No Non lo so Sapete Proviamo a fare Una roba del genere Proviamoci Non lo so Magari Cioè magari no Però proviamo Tanto Lo lasciamo lì Al massimo Non succede niente Ok qua siamo quasi arrivati sotto Non penso Non penso in realtà Faccia qualcosa Ma vediamo Non so No esatto Mi sa che ci ha provato Storm Ma ha fallito Quindi Quindi va bene Ah e abbiamo questo problema Però In effetti Ecco che Mi ero già dimenticato Ma abbiamo questo problema Food poisoning Tra l'altro Di carne Non abbiamo più niente Vero Eh no Di carne Non abbiamo più Ma facciamo così Allora Ehm Wildlife Perché tanto Tanto in realtà È uguale Almeno Ci teniamo un po' di carne In giro Eh spero che andando A attaccare Non vadano in questa zona qua A vero che qua Non c'è niente In realtà Però Cioè non devono andarci Assolutamente Ok Ah beh qua è notte Ovviamente non si stanno Vediamo E appena torna tutta la squad Mandiamo tutta la squad Qui Ci piazziamo dietro Ci piazziamo dietro Questa roba qua Facciamo Eh Production No Security Security Questo Secondo voi è meglio Locale Dirt Sun Sì 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 Odder Better Ok Arrive dal delta Ok Aspettate Trade Vediamo se hanno Plasteel Non hanno Plasteel Quindi Niente Cancel Torniamo in base Sperando che non entriamo Da qua sopra Cioè Vabbè Non succede niente In realtà Però Allora Siamo in set Quindi facciamo così Sette Ok Ok Sad wonder Va bene Allora Facciamo così Anche Zone Expand Allove d'aria Sì Dobbiamo fare Questa cosa qua Dobbiamo fare Siamo vicinissimi In realtà Quindi Non è troppo Fantastico Però Mal Ok Siamo molto Molto vicini Però in realtà Siamo safe Perché questi cofing Non li attacchiamo In teoria In teoria Non dovrebbero Non dovrebbero Dare Disturbo Finché non ci avviciniamo In teoria Però noi Adesso facciamo questa cosa Prendiamo tutti I boss Tutti loro Prendiamo Tutti loro Che sono potentissimi Li piazziamo qua dietro Mettiamo Anzi Tutti tranne Stingray Che è quello più bravo A sparare Secondo me È vero Che mi sembra Più o meno Sotto Cioè ci sta Un solo Mino Quindi Sopra invece Secondo me è più complesso Quindi io farei Se non ce la facciamo Facciamo così Sotto E sopra Semplicemente Senza No Vabbè Eh ma No Qualcuno Vuole buildare Questa cosa Falcon Vuole buildare Questa cosa Va bene Fai Fai tu Fatelo così Poi lo rimuovo Dalla zona Consentita Perché lì Non dovete andare Ma proprio Non dovete andare Perché ve lo dico io Che non dovete andare E quindi Facciamo così Ok Quanto plastile L'abbiamo Non l'hanno ancora scaricato Ovviamente Tu No Chi è che ha il plastile Chi è Colonist need rescue Che è successo Don't Food poisoning Ah Ah John Ma è bravissimo Stai già facendo ciò che devi Salvalo Perfetto Ok Allove d'aria Clear Allove d'aria Qua Fulmine Ok Perfetto Allora Siamo praticamente Tutti attivi Se non sbaglio Sì E qua Mi è riuscito a buildare Sta cosa Perfavore Sarebbe veramente Fantastico Solo che non so Ah Eccoli qua Ok Non vedevo più Gli altri animali Uno di voi Ha Il plastile No Nessuno di voi Ha il plastile Eppure Però non c'è Avete già Consumato tutto Istantaneamente No Non dovreste Avelo già fatto Quanti componenti avanzati Facciamo Dieci Eh no In teoria In teoria Non dovremmo averli usati tutti In teoria In pratica Allora Allora Stingray Bellissimo Stingray Man Still Mortal E tutti gli altri Draft E li piazziamo Qui Là Ah c'è anche un albero In mezzo Quindi abbiamo fatto bene A farli così Ah ok Stanno buildando Finalmente Ok Perfetto Allora Adesso ci piazziamo qua Non sparate Far at will No Non sparate Ok Siamo tutti qua Far at will Si E Eh Aspettate Allora Qua abbiamo buildato No Quasi Sì Ok Va bene Ok Ah valoxia No 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 Sparare Allora Siamo ancora Ok Valoxia Ah perché è lentissimo Ah valoxia mi sa che non ha più una gamba Vero Eh Ah no Non ha più neanche un polmone Ok valoxia Ha messo Ma gli altri come sono messi Male Tutti molto male In realtà Tra le rain Che è abbastanza potente Però gli altri sono messi Malino Ok Allora Facciamo direttamente così Quindi Stingray Hold the fire Tac Set force target Tu devi fare Così Bam No Mancato Perfetto Adesso qua ci metto un po' a sparare Perfetto Stunnati E sparate E sparate at will Perfetto Ok Quindi tu Set force target Tac Ah perché si avvicinano questi brutti qua Uh Sono quelli che attaccano Eh Sì Devi assolutamente fermarli Stingray Perché non avevo notato Erano quelli Che attaccano con le mani Quindi Male Malissimo Giga male La cosa più brutta dell'universo Malissimo Puoi far fuoco Mi sa che finisce molto male Qua situazione Nessuno è bravo a sparare da vicino Spara Come fire in zero Spara adesso Ora Riesce a sparare Ok ha sparato Perfetto Tutti stunnati Tutti indietro perfavore Che siete tutti bravi a sparare Ok fate tutti fuoco Ok venite tutti lontano Perfavore Oh zebra è messa male Però Ok però Dovrebbero Forse gestiscono la situazione Più o meno No 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 State fermi State fermi Tu ci sei con questo Hai già sparato No dimmi Ah ok Hai già fatto da solo Uh gra Ma che grande che sei Ah però tu non sei stunnato Tutti contro di questo Occhio a Kena Però tutti contro di quello Che Kena Ok non è morta Perfetto Ottimo Ottimo che non è morta Allora Fate Fateli tutti fuori Che sono tutti stunnati Ok Dai manca solo questo Fate fuoco tutti Oh là Ok fatto Undraft Tu Eh tu che sei buona Kuya Rescue Rescue lei Ok Chi è che è sano Che non sta per morire Ah tu non stai per morire Quindi Redrafta Ti vieni qua Tu sei buono Quindi Redrafta Ti vieni qua Semi Sei buona Vieni qua E tu invece no Vattene che stai morendo Ok Ok Eh Sì Ah ok Possiamo riattivare Zona safe E questi qua Sono quelli più brutti In realtà Perché Perché rimangono lì indietro E non attaccano Però E danno fastidio Ah Tutti questi Li consentiamo Perché li voglio Questo Allo Questo Allo Questo non Alloiamolo Invece Allora Attacca questo Ah però Tu spostati Che No no Stai draftato Ok facciamo saltare Cosa stai facendo Coen Ok Ok Perfetto Sdraftatevi Anche qua Raccogliamo tutto Uh Plasteel Dieci solo Però Però non è male Ah ma questi qua Ci danno Plasteel Però a distruggerli Mi sa Ah quindi Non male Eh Se le costruite Tutta quella roba qua Che Non la voglio Vedere in mappa Più che altro Perché Più che altro Perché Sennò Ci Ci sono i nemici Che Questo cos'è Plasteel Goodwill No Qua siamo già alti Quindi ci sono sei pirati Decampus Contro Red Potremmo fare questo In realtà Che ci da Vediamo Non è neanche Tanto lontano Allora Intanto lo accettiamo Per quello Poi vediamo Ah vediamo se ci danno Plasteel Secondo me potrebbero Insulting spree Sì sì va bene Non è Days Kena Uh Kena però Non doveste alzarti Però eh Anche Rain Ma Tra l'altro Sono tutti potentissimi Che si alzano Ma non devono alzarsi Restanti Lilde Valoxea Ah Valoxea e Kena Non possono stare Ah Stingray Puoi essere Puoi sganciarti Da qua direi Old Fire Ok buono però eh Hunter Kena Eh Kena adesso Appena ti riprendi Ti faccio ripicappare la tua arma Appena Appena sei tornata sana Diciamo Abbiamo 60 Solo 60 Plasteel Però 60 Plasteel Non è male Questi qua Esatto Questi qua Non so Allora vediamo Allora intanto va bene Possiamo fare di sicuro Così Esatto Di sicuro Così possiamo farlo E poi adesso Pian piano Secondo me Questi qua Nel decostruirli Esatto Dovrebbero dare Qualcone Vediamo Per me dovrebbero dare Del plastil No danno solo Steal Ok male Male in realtà Quindi Non bene Kena sei tornata Fra noi No non sei tornata Fra noi Ok Kena però dovresti No ok dai Sei abbastanza Sei safe Dovresti stare a riposo Lo stesso però Mi piacerebbe Che stai a riposo Lo stesso Mi farebbe Abbastanza piacere Però va bene Dai Ok allora qua Facciamo così 5 dieti 10 20 40 40 Ne abbiamo già usati Ne abbiamo 60 Non abbiamo Eh Dobbiamo andare a fare Con la quest lì In realtà Qua ne abbiamo altri 10 Che ci fa super comodo E anche qua va bene Roba Poco Poco bella Kena No sei ancora Sei ancora in modo brutto Riesci a curarti In fretta Per favore Così Ok sì Perché qua Ripeto Andiamo a fare questa Questa Tanto sono solo in 6 Sono E noi vabbè Andiamo con tutta la squadra Appena si riprende Ok Rain è tornato Pronto In realtà Ah tra l'altro Possiamo anche buildare Quelle robe qua Che ci servono Perché Con le robe qua Ci servono Quindi Tipo Bionic leg Io la voglio Però ci serve Plasteel Eh ci serve Plasteel Quindi Automaticamente Vuol dire che non possiamo Eh sì Kena No Kena si è ancora Ma Kena è sempre attiva Con questo effetto qua Magico Perché mi dà fastidio Medical treatment Needed Eh lo so Se stai andando in giro Però Bene Fate come volete Fate Fate un po' come volete Tanto Ah ma qua perché Mi ha impiantato le patate Eh no High grass Ho sbagliato Eh High grass Qua voglio Voglio che sia tutto High grassoso Kena No è ancora Non attiva Ok 25 Ne abbiamo Quindi possiamo fare Allora Possiamo fare 5 10 15 20 25 Ne mancano 3 Si ripeto Non è fantastico Ma Niente Vorrei anche che Kena Si riprendesse Vi dico la verità Ma Solo per fargli raccogliere L'arma Perché purtroppo Non Non ripickuppano L'arma da soli Ma Questo Questo coso Che è addosso Dura all'infinito Scusami È infinito Questo stato che hai O no O posso già Premere E no Vedete che non posso Fare niente Donkey Ha given birth Va bene Si si Fate voi Ok Qua abbiamo Ribillato il muro E Allora No Voi però Che vi state alzando Valoxea Rest until healed Zebra Rest until healed Akuya Rest until healed E Kena Anche Dovrebbe restare Until healed Però Ovviamente Non lo stanno facendo Ma Va bene Kena No E quando sento I messaggini Penso sia Kena Che Sia a posto Ma invece no Qua si degrada L'arma Eh si si degrada Sarà all'aperto Purtroppo Kena è tornata normale Equip A fulmine Allora Equip E dopo Rest until healed Proprio Di fare queste due cose Ok Akuya Valoxea Ok Gli altri Sono tornati normali Ok Akuya È tornata Ok E Ok Siamo messi Benino Direi Teoria In pratica Non lo so Teoria Siamo messi Benino Qua va bene L'astronave È pronta Ma Non siamo pronti Per attivarla Quindi Bene Qui Valoxea È in Kena Quanto Quanto Sono pronti Efficiency Due Ok Qua sta Qua sta Per scadere E qua Dovremmo Cambiargli Dei pezzi Al signor Valoxea Un In cosa Ce l'abbiamo Un Bionic Arm Bionic 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 Tongue No Ma rene Invece Ha già Tutto Bionico Perché rene E Shoulder Bionic Oh no Bionic Care Non ce l'ha In realtà Bionic Lag Ne ha una No Va bene Ok Siamo tutti guariti Tranne Kena Quindi Che però Beh sta Esatto Con calma Sta Sta facendo Hanno tutti Dei pezzi Mancanti Quindi male Tranne rene Che Se vi ricordate Rene In realtà Anche morto In realtà Però Va bene Ok Qui potremmo Anche Fare Delle Cosa Niente No Cosa state Facendo Qua Perché state Estraendo Queste Bruttissime cose Perché state Estraendo Materiali Qua Ah no Tu Scusami No 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 Rinstalliamola Qua Bat Bat No Simi Non puoi farlo No Falcon Beh Ok Hanno già Fatto Beh qua Stiamo tirando fuori Quelle robe qua Che non ci servono In realtà Quindi Allo Non allo Allo Per qua Eh beh Questi qua Stanno raccogliendo Questi Questo sta raccogliendo Quello lì E gli altri Stavano Facendo Buchi Per terra Quindi Ci sta Il fatto Che siano Spunati I brutti Signori Ah Qui dobbiamo andare Tra l'altro La vecchina Adesso Stanto Stanno Guarendo Praticamente Sì 2.0 Questo guarisce Adesso Esatto Sì Quasi È guarito Ok Gli manca solo questo Che in questo Guarisce Adesso Quindi Siamo Ok Perfetto Allora Facciamo questa cosa Rischiosa Di mandare Tutta la squadra Qua Eh Sì Devo ricordarmi Ovviamente Chi sono Stingray Canna Valoxe Quindi Stingray Va Vexaloxe Zebra Rain Tanto li vediamo In realtà Quali sono Perché sono Quelli armati Kenasime Akuya E Basta Sì Sono Sette Quindi Sono Proprio Loro E Beh Allora Già che andiamo In queste zone Qua Prendiamo su Anche un po' Di cavalli Animali Eccetera Eccetera Che vediamo Se abbiamo Altro plastile In giro A sto punto Perché Ripeto 150.000 Qua Prendiamone 1000 D'oro Travel supply Facciamo così Prendiamo 500 Pemmichan Giusto per averlo E si vola Ok Così andiamo qua Demoliamo questo campo E Ok Demoliamo questo campo Nel tornare indietro Andiamo a acquistare qua E Va bene E Poi niente Nel prossimo episodio A sto punto Attiviamo l'astronave Allora Perché Ripeto Quando ho questo muro fatto Sono abbastanza sicuro E posso Cliccare Startup Perché Devo dirgli Di non uscire Più dalla base Quando facciamo Questa operazione Quindi stiamo Rinchiusi Praticamente Nella base Comunque Signori Da Jurassic 1 10 È tutto Vi ricordo Mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi Il caso Ancora Fatto E noi Ci vediamo Direttamente Al prossimo Episodio Di Rimworld Quindi Signori Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.